Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di stasera, mancano 3 minuti, 2 minuti e mezzo a Milan-Venezia, finisce, stanno inquadrando le ragazze come me, 2-0, Brian Dioz, Teo Fernandez ci saranno con le live packages, il Cagliari sta perdendo, contro l'Empoli, 0-2, alle 18.30 c'è stata la Juventus che ha vinto 2-3 contro lo Spezia, schifo, non mi è piaciuto, lo Spezia mi è piaciuto, e poi c'è stata Salernitana, Merona, 2-2, l'ospetta di Galinic, Gullibali e Gondocchi, di aver detto bene, vediamo, manca poco ma è bella che è andata, questa, anche questa, domani ci saranno, domani ci sarà la Lazio, non so se ce la farò, vediamo, c'è la fine di questa partita, vi dico solo i quali che li ha fatti perché non le ho viste, ho acceso adesso, vediamo, oddio, no, si stanno ammazzando del Venezia, vediamo, no, niente, niente, sono contenta del Cagliari che ha perso, perché non lo fa i binomeni domenica, gli stanno bene, bravo Empoli, bravo, vediamo, quindi manca domani Napoli, Lazio e Roma, ultimo minuto, vediamo, segnerà il Venezia, si sa, vedremo, non credo, vediamo, ragazzi, per chi viene domenica dovete portare bandiera, curva, bandiera, sciarpa e maglia celeste, mi raccomando, vedete il comunicato, 15 secondi manca, oh, stava quasi per segnare il Venezia, il bravo ha detto una parolaccia, bravo Magnao, è finita, ci vediamo domani, ci sarà il pre partita, ciao ragazzi, ciao,